Ciao amici di Italia Talk Games, buon 2018, auguri, auguri, tantissimi auguri, siamo qui per il primo aggiornamento dell'anno di MyClub in PES 2018, primo giovedì dell'anno, giovedì 4 gennaio, sta continuando la campagna Cessi con i vari bonus e poi oggi ci dovranno essere delle novità che non sono eccezionali, perché come vedete non c'è nessun agente speciale, c'è solo l'agente top che in questa settimana costerà solo 100 monete, se quindi avete 100 monete d'oro o se le volete comprare fate come volete potete pagarlo 100 monete d'oro invece delle solite 250, gli IGP invece sono sempre quelli 10.000, io ne ho 8.370 quindi non posso neppure girare, ma come dire questa novità non è incredibile diciamo soprattutto perché le monete d'oro si possono prendere tramite la campagna Cessi e tutto quanto tramite i bonus quotidiani ma altrimenti bisogna acquistarle, nessun agente speciale, andiamo a vedere se c'è qualche challenge online o contro com, scopriamolo subito, ma io non credo perché Konami non diceva nulla, sfida punti invece mi sbagliavo, dal 4 all'11 gennaio potete fare la challenge contro com, uno contro uno, accumula 4 punti in 3 partite, basta quindi vincerne 2 o vincerne una e pareggiarne un'altra, possibile, e riceverà 10.000 GP dopo la prima vittoria, 1.000 GP dopo la seconda vittoria e poi andiamo a vedere se c'è qualcosa anche di challenge contro com, vi ricordiamo comunque la cosa importante in questi giorni è accedere a PES 2018 per la campagna Cessi che vi dà gli osservatori da 5 stelle ad esempio e altri premi, ve l'abbiamo detto alla fine dello scorso anno che c'era questa lunga campagna di accessi, quindi non dimenticate mai tutti i giorni di accedere a PES 2018, anche se non avete il tempo di giocare, intanto entrateci, prendete il bonus e poi dopo ve lo spenderete quando potete. C'è pure ecco questa challenge cap, andiamo un po' a scoprire di cosa si tratta, uno contro com, vinci tutte e tre le partite, il premio altri 10.000 GP. Konami per iniziare l'anno non si è certo sforzata, diciamolo subito, noi diamo 5, 5 meno a questo primo aggiornamento del 2018, siamo in un periodo di feste e ci si poteva sforzare un pochino di più, non ci sono neppure l'aggiornamento delle condizioni dei giocatori, insomma un 2018 che inizia un po' all'insegna della mediocrità per PES 2018, speriamo che si riprenda presto, molto presto, perché qui noi aspettiamo tante, tante, tante nuove leggende, qualche agente speciale particolare e tanto altro. Oggi siamo da 5, 5 meno anzi, ma speriamo che la settimana prossima vada meglio, che comunque PES ci regali qualche emozione in più da un punto di vista degli agenti speciali e di tutto il resto. Per oggi quindi siamo arrivati alla fine, abbiamo fatto più in fretta del solito perché non c'è nessuna gente speciale, vi ringrazio dell'attenzione, ci vediamo in video con un video nuovo giovedì prossimo, ci vediamo quando volete voi su italiatofgames.it o sul nostro canale YouTube che si chiama sempre Italiatofgames. Ciao!